ciao a tutti oggi faccio un nuovo video una cosa molto diversa e volevo fare tipo una piccola nail art sulle mie unghiette minuscole perché purtroppo allora inizio subito a dirvi cosa serve per fare questa è l'arte allora intanto serve un dotter con la punta con la pallina della media poi uno smaltino nero con il tappo a punta poi uno smalto rosa uno smalto color chissani e uno smalto traspare trasparente iniziamo subito allora inizio a passare lo smalto trasparente come top coat come base inizio a mettere lo smalto trasparente come come base e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti